Io me ne occupo. La piazza, il giardino sotto casa, la strada è di tutti e quindi anche mio. E questo è il nuovo senso civico dei bolognesi. I patti di collaborazione che sono nati in questi anni tra il comune e i cittadini hanno voluto dire questo, come la pulitura delle panchine di piazza Carducci. Era un problema di tutti e quindi era un problema anche mio. Le social street che sono nate, sono nate sul web, ma poi alla fine la gente si incontra per mangiare insieme e per curarsi insieme della via dove si abita. Il nuovo consiglio di quartiere che nascerà nelle elezioni che verrà eletto il 5 giugno deve essere punto di riferimento per questi cittadini, ascoltarli e insieme migliorare la vita del quartiere. Ho già finito!